Sì, è tutto chiuso a Roma? Sì, è tutto chiuso a Roma. Locali, discoteche. È tutto chiuso. Canavato? No, io ho fatto Canavato. Ah, bello, sì sì. Roma, hai fatto conoscenza con loro? Sì, Emma si chiama. Allora, lei è Emma? Emma, Linda. Ma Emma non me lo dimentico. Però sono americani, tu conosci We Speak English? No, non parlo. Sì, a Londra, sì. Va bene. In Canada? La canzone. La canzone. La casetta in Canada, canta. La canzone. La puoi dedicare. Domani ci siete? Sì. Eh? Sì. Ci vediamo domani? Sì, ci vediamo domani. Sì, va bene. Invita le domani che c'è. Nel tempo, se vedono domani. Ma arriva fino a voi questo, sì? Sì. Basta collegarsi su internet, ragazzi. Sì, 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 capito. Diglielo, Romolo. Ci sei anche tu, poi. Diglielo, con le foto. Così mi guarda. Allora, la foto che ha fatto, lui la vuole sviluppare e metterla qua, la vostra foto, nella maglietta. La maglietta. La maglietta. Movesse. Va bene. Chiedigli il permesso però, dai. Perché no? Sì, perché no? Non c'è problema. Perché no, non c'è problema. Romolo, domani le devi invitare qui a cenare. Sì, io le ho detto. Invita le a cena domani. E beh, da gentiluomo. E beh, dai. Sì, che bella? perché io sia finito cantate voi cantate voi cantate allora domani canti domani? va bene domani no di madonna si c'è anche domani domani va bene eh va bene si chiedo che tu sei cantante lui canta ragazzi no io canto ma non sono cantante no 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 lui canta le tagliatelle di nonna Pina Giordi prova a canticchiargliela ma senti avete sentito prima ragazzi cantando è bravo ma ci sono da poco loro qua adesso 4 ragazzi non l'hai fatta il canto 4 ragazzi 4 ragazzi 4 ragazzi spagna mercoledì sera 3 3 va subito si mercoledì giovedì giovedì sera si giovedì sera marcellona che fantastia che fantastia che fantastia